Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa di oggi giovedì 9 marzo 2017 siamo in diretta alle 7.30 benvenuti a tutti allora partiamo dal santo del giorno come di consueto e poi vedremo le previsione del tempo e i giornali allora il santo di oggi è santa francesca romana il sole è sorto alle 6 e mezzo e tramonterà 7 minuti dopo le 18 il tempo per la giornata di oggi avremo un cielo sereno con temperature in aumento nei valori massimi per domani venerdì ancora cielo sereno o poco nuvoloso per sabato ancora cielo sereno con temperature in lieve diminuzione c'è tempo stabile dunque anche per l'inizio della prossima settimana andiamo a vedere subito i giornali cominciamo dalla prima pagina del resto del carlino in apertura vedete la fotografia di questa ondata di tronchi che sono arrivati dai fiumi con tutta la pioggia che c'è stata nei giorni scorsi quel giorno di pioggia incessante che ha fatto arrivare a mare tanta tanta roba vedete questi maxi tronchi il porto invaso dagli ultratronchi questo il titolo del resto del carlino una mattinata difficile nel canale intasato dai rami dalla piena della piena del foglia c'è pericolo colpa del nuovo molo sopra invece mimose abusive monta la protesta ieri giornata della donna in tanti per la strada a vendere e anche ad acquistare queste questi rametti di mimosa vedete questi mazzetti venduti al semaforo per esempio da questo abusivo i venditori agli incroci sequestri della municipale ma i negozianti si arrabbiano i fiorai quelli che pagano le tasse quelli che non devono sgarrare perché altrimenti vengono puniti a sangue noi che ci stiamo a fare giustamente che ci stiamo a fare esami facili ora il prof che rischia siamo a urbino il docente ricorderete fece passare tutti gli studenti adesso per lui c'è un pericolo c'è il pericolo di sanzioni mentre lo sport da pesero le dimissioni di Bucchi la crisi VL adesso diventa caos l'allenatore della vittoria libertà spiero Bucchi se ne va e allora andiamo a leggere le pagine interne del resto del carlino in primo piano la guardia di finanza che è arrivata in aeroporto ci sono sta facendo accertamenti su una società che opera nell'ambito dell'omiccioli qualcosa si muove dopo l'esposto della fanon fortuna poi tante divise in cattedrale con il vescovo per il precetto pasquale interforza che si è tenuto ieri mattina nella cattedrale di fano la presenza di tutte le forze armate e delle forze di polizia che operano nel territorio e sempre sulla pagina di fano del carlino fusione i sindaci non firmano né patti né statuto parliamo della fusione aset holding in aset spa e anche se questa a parte il comune di cartoceto ad eccezione del comune di cartoceto gli altri comuni soci di aset devono ancora approvare lo statuto e i patti parasociali ieri pomeriggio è stato questo incontro alla presenza del sindaco di fano massimo serie per superare questo ostacolo ma che se non impedisce la fusione però crea imbarazzo nell'amministrazione fanese lo sport allo stremo è polemica il sindaco convoca la giunta si parla del taglio dei contributi alle associazioni sportive si tenta di reintegrare i fondi il sindaco cerca di minimizzare dice che problema c'è le somme saranno reintegrate anche per il 2016 e dunque il sindaco serie tranquillizza mentre il movimento a 5 stelle denuncia irregolarità poi c'è l'avis l'avis the record con 5000 donazioni e 500 soci sotto i 30 anni quindi un nuovo consiglio direttivo quello dell'avis di fano che vedete in questa fotografia con al centro il sindaco di fano e il neopresidente marco savelli una associazione quella fanese che ha dei numeri davvero importanti 2600 donatori 5000 donazioni all'anno insomma un avis quella della sezione fanese giuliano solazzi da record a urbino dicevamo del professore che adesso insomma potrebbe passare un po di guai quello che a un certo punto il 26 gennaio scorso il professore Emanuele Russo dovendo esaminare 119 studenti ha deciso pensò di poter dare agli studenti frequentanti il suo corso un voto che fosse la media dei voti nel libretto aggiungendo qualche punto per premio senza però interrogarli insomma una cosa che è finita sul giornale e adesso il rettore che cosa ha fatto? Ha annullato questi 80 esami però a rischiare adesso è il professore atti inviati alla commissione disciplinare Stocchi dice sarà ripristinata la correttezza suddividendo i candidati in gruppo settimana corta parliamo sempre di scuola a Fossombrone polemiche chiaraviglia accusa decisione presa contro il parere degli insegnanti direzioni didattiche il consiglio di circolo riscrive gli orari secondo alcuni le nuove disposizioni avranno riflessi negativi sull'apprendimento e poi sempre da Fossombrone anche a Guzzi nel patto di Piaggia anche se c'è un ricorso pendente davanti al Tar lui si è candidato a sindaco del nuovo comune di Colli al Metauro lui è l'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi che già ha detto che se dovesse diventare sindaco entrerà nel patto di Piaggia e parliamo di sanità poi da Mondolfo invece evasione recupereremo 250 mila euro parla Carlo Diotallevi vice sindaco e assessore al bilancio che illustra il bilancio di previsione più soldi a turismo e cultura sotto invece a Mondavio la cronaca arrestata una 19enne per Ascish l'aveva nascosto in camera sua sono stati trovati 20 grammi più un bilancino di previsione questo è il resto del carino andiamo adesso invece sul Corriere Adriatico la pagina di Fano che apre con il nuovo parco dell'aeroporto che lancia una sfida a basse quote sono stati stanziati 14 mila euro per i progetti prescelti chi vince realizza il piano particolareggiato il comune gestirà 20 posti di RSA per soli 10 anni il Movimento 5 Stelle contraddice Barnesi sulla cessione al Fondo Cive su oltre 500 mila euro di spese poi le società in pressing quelle sportive che devono avere ancora i contributi i contributi promessi però dice il sindaco ci saranno il sindaco tranquillizza i sodalizi sportivi sul paventato taglio della seconda tranche del 2016 mentre vedete la fotografia con tutte le forze dell'ordine presenti nel territorio per il precetto Pasquale Interforza che è stato celebrato come dicevamo nella cattedrale Santa Maria Assunta di Fano poi ancora Frattini, Rivetti e Capodagli quando l'impresa è vincente storia di tre manager che hanno segnato l'economia fanese dal dopoguerra ad oggi mentre a centro pagina un fiore di nuci sulla panchina rossa è stata inaugurata la panchina rossa nei giardini vicino alla rocca malatestiana simbolo dell'antiviolenza sulla panchina è stata posta una installazione di Vito Nucci che allude ad un abbraccio tra un uomo e una donna da cui nasce un fiore ok andiamo sull'altra pagina quella della Valle del Cesano del Corriere la forza di Mari continua a vivere con il Memorial La Sfacchinata solidarietà con gli amici di Mariella Micci insieme a San Filippo nel mondo e comune tutto ricavato andrà ai ragazzi del centro socioeducativo l'Aquilone di Mondavio asfalto in piazza scatta il divieto di soste di transito siamo a Mondolfo un provvedimento nell'area attiva al comune da oggi alle 7 fino alle 2 del pomeriggio di domani ci sarà questo divieto per consentire appunto l'asfaltatura della strada bilancio bilancio siamo a Mondolfo bilancio finanziario approvato in anticipo tasse bloccate ora più opere pubbliche voto compatto della maggioranza e di Marotta nuova città risorse per turismo poi sociale e anche spycam cioè le telecamere di sicurezza poi Senigallia ultima pagina della nostra rassegna stampa la grande alleanza della polizia locale un comando unico per 9 comuni è stata riorganizzata la municipale dal 2018 l'Unione potrebbe coinvolgere 80.000 abitanti Occhio ai giornali termina qui noi ci rivediamo stasera alle 20.30 c'è il telegiornale vi ricordo che a questo numero che vedete in sovraimpressione potete inviare foto, video, segnalazioni di ogni genere dalla cronaca dall'incidente fino alle segnalazioni che riguardano la vita di tutti i giorni inviateceli pure io mi fermo qui vi auguro una buona giornata e arrivederci Grazie a tutti Ciao Ciao Grazie a tutti.